Riapre ufficialmente il multiplex di Pesaro dopo quella dei giorni scorsi di Ancona, c'è stata appunto l'inaugurazione anche lì. Questa rappresenta non solo il ritorno ad una normalità perduta, ma una ripartenza nel segno della speranza e la dimostrazione che il cinema è più vivo che mai. Ci troviamo con Massimiliano Giometti e appunto abbiamo detto dopo diversi anni di gestione UC Cinema finalmente ritorna in città, ritorna in città Massimiliano. Innanzitutto come ti senti? Mi sento emozionato, ho detto bene, ritorniamo a casa perché noi siamo a Pesaro ormai dal 1988 con il cinema Odeon, con il cinema Metropolis, il moderno, insomma ne abbiamo vissute di anni a Pesaro. Ritornare qui, dico a casa perché questo qui l'abbiamo costruito noi e l'abbiamo aperto nel 2008, ricordo bene il giorno perché due giorni prima è nato mio figlio piccolino, quindi l'ho chiamato, ho avuto due figli nello stesso giorno, uno era al cinema e uno era al bambino. Quindi è un'emozione grandissima, un'emozione di poter aprire il cinema, rivedere la gente in sala, insomma perché questo ci è mancato molto per un anno e mezzo e quindi è stato un periodo difficile, però è un periodo dove non ci siamo abbattuti ma abbiamo cercato anzi di cercare di trovare delle contromisure, insomma per fare in modo che la gente torni in tranquillità, in sicurezza al cinema e a vedere dei film insieme ad altra gente. Tra l'altro ci troviamo in questa sala 1 che è stata completamente rivoluzionata, arricchita ancora di più e ancora più predisposta per la comodità dei clienti. Sì, questo è il nuovo progetto Giometti Cinema, questo si chiama G+, la sala G+, in una multisala che apriremo partiremo con una sala di questo tipo, le sedie come avete potuto vedere sono già distanziate una dall'altra tramite questo tavolino centrale, ogni poltrona è reclinabile, ogni poltrona ha il doppio bracciolo, così non si litiga con quello che arriva prima, ognuno ne ha due singoli, insomma pensiamo che il comfort sia quello che una persona cerca quando esce di casa. Quindi oltre all'aspetto tecnico, che per noi è molto importante essere adeguati a quello che sono le ultime novità audio e video, anche il comfort sia necessario e indispensabile. Quindi ritornate, facciamo un appello al cinema, in queste sale ancora più belle e più comode, a proposito di cinema, a proposito di film, quali sono i film che la gente potrà venire a vedere qui da Giometti? Ecco, insomma partiremo proprio stasera con un film nuovissimo, con Black Widow, una novità assoluta, e poi dopo agosto c'è una delle altre sorprese, adesso non lo svelo tutto oggi, però ci saranno parecchi film, anche se è un periodo estivo, e comunque se posso permettere una battuta, qui c'è l'aria condizionata, quindi quando è fuori molto caldo quasi sta bene. CNA Cinema e Audiovisivo Marche, anche questa associazione è contentissima della riapertura delle sale cinematografiche in generale, ma in particolare anche questa di Pesaro. Ci troviamo con Claudio Salvi, allora, insomma una giornata di festa quella di oggi. Sì, una giornata di festa all'insegna della rinascita, della ripartenza, ed era questo un settore che ha sofferto più di tanti altri, i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire, i cinema, i teatri, e quindi è un motivo di festa e di orgoglio anche per la CNA, che rappresenta ovviamente il gruppo Giometti, associato a CNA Cinema Marche, ma come lui tanti altri esercenti che sono tornati finalmente a lavorare. E quindi quali sono le tue speranze, insomma le speranze di CNA a supporto proprio di questa categoria? Allora, a supporto di questa categoria stiamo facendo tanto anche a livello nazionale per poter trovare un accordo anche sui protocolli di sicurezza, che sono importanti ovviamente in questa fase di ripartenza, ma noi facciamo molto altro anche per le imprese di produzione delle marche, che sono tornate finalmente a produrre documentari, film, sono ripartiti molti set in questa regione e quindi questo è un bel segnale di speranza per tutto questo settore. In occasione di questa giornata di apertura, di riapertura di questo cinema abbiamo un attore pesarese, Massimo Fratelloni, che ci stava anticipando appunto che sarà tra coloro che faranno parte del cast di un film che vedremo proprio qui da Giometti il prossimo inverno. In qualità di attore pesarese volevo dire innanzitutto che a mio avviso il vero imprenditore in merito alla riapertura di CNA è colui che è pronto in ogni momento a preservare l'immagine della propria azienda e quindi anche investendo risorse anche in momenti più difficili e quindi insomma un grande coraggio da parte di Giometti CNA nella riapertura, nel nuovo allestimento delle sedute, del potrone, con le distanze, con tutto ciò che è previsto dalle normative. Questo riguarda me come attore, chiaramente la riapertura mi fa molto piacere, poiché ci sono dei film, tra i quali in particolare Vecchie Canaglie, che è un film comico con un cast di eccezione, poiché troviamo Lino Banfi, Andrea Roncato, Greg e Pippo Santonastauso, che è un comico dei film degli anni Ottanta con Adriano Celentano. Quindi questo film uscirà in inverno e aspettiamo con grande felicità di poterlo presentare nelle multisale di Giometti Cinema. E qui Massimo che ruolo hai fatto? Allora, io sono un agente, assistente del commissario, che praticamente indaga su dei fatti che accadono in un ospizio, in cui la titolare vuole praticamente sbarzarsi di tutti i vecchietti, poiché intende vendere tutta la struttura a cifre interessanti. E quindi accade che, nell'ambito delle varie situazioni, il rappresentante dei vecchietti, che è Lino Banfi, ingaggia il figlio, che è un uomo d'affari, e cercano di rimediare la cifra per comprare loro la struttura. E poi si innescono dei meccanismi con delle bande, con delle situazioni abbastanza curiose e comiche. E Lino Banfi com'è? Allora, Lino Banfi di persona è una persona molto gentile, molto anche umile, direi. Ancora si ricorda veramente tutte le battute in memoria, meglio, anche di attori giovani. Quindi è stato un onore conoscerlo, come anche Pippo Santonastasio, perché poi comunque l'epoca è la stessa come attori comici. E quindi è stato per me un grande onore e un piacere fare parte di questo cast. E ringrazio la produzione, la regia e tutti quanti.